Il Consiglio Comunale, all'unanimità ci tengo a dire, anche l'opposizione ha votato questa delibera, è stato approvato il progetto definitivo con la variante al piano regolatore della seconda recicleria della città di Pescara, ma è fondamentale per noi questa infrastruttura che si lega ad una serie di infrastrutture che il Comune di Pescara insieme ad Attiva sta portando avanti. Il Centro per il Riuso, per esempio, è una di queste. Abbiamo acquistato la piattaforma di Alanno, quindi ci sono una serie di infrastrutture che sono da supporto a quella che è poi la raccolta differenziata porta a porta, che abbiamo iniziato con sette estendimenti annui e noi contiamo ai primi mesi del 2018 di portare la città di Pescara al 52% di persone che fanno la raccolta differenziata. Pescara parte male, parte con un gap molto, molto in ritardo rispetto alle altre città, ma stiamo recuperando, stiamo recuperando bene. I lavori inizieranno da subito, una volta predisposta l'area che va sgombrata da alcuni terreni di risulta, poi va attrezzata in modo da essere raggiungibile da camion, auto o quant'altro, e poi vanno costruite delle semplici infrastrutture che consentono sostanzialmente lo smistamento del rifiuto, l'immagazzinamento di alcuni container che servono alla raccolta di rifiuti stessi. Quindi noi pensiamo nei primi mesi del 2018, tra gennaio e febbraio, di essere pronti a partire con la nuova ricicleria. Il costo sostanzialmente in parte viene finanziato dalla regione e in parte viene corrisposto da noi come attiva, come branch del comune di Pescara. Immaginate il costo totale che abbiamo stimato se aggiri attorno a 400 mila euro, tra 4 e 500 mila euro.